Per me il mio lavoro, la mia disciplina è la più bella del mondo perché è una chirurgia di frontiera, è una chirurgia in continua evoluzione e che non ti annoia mai. Lavori insieme agli altri chirurghi, con il chirurgo generale, con l'otorino, con il dermatologo, con l'oculista, con l'ortopedico, con il neurochirurgo. È una chirurgia di frontiera che va dalla testa ai piedi. Per me ogni mio lavoro è un'opera d'arte, diversa dalla precedente e su ogni lavoro devo dare il massimo. La chirurgia estetica, dico sempre, non è la chirurgia della bellezza ma la chirurgia del fascino, dell'eleganza e questo è quello che dobbiamo trasmettere alla fine di un intervento chirurgico o di un atto di medicina estetica.